Grande Masha, stai facendo un grandissimo campionato, crescendo partita dopo partita, avanti così, tutti insieme, mai smettere di sognare. E ancora, Masciarelli è più buono dei passatelli, ci scrivono da casa. Beh, direi che comunque questo messaggio ha toccato proprio un argomento che noi stessi siamo andati ad evidenziare con l'aiuto di una slide, perché abbiamo notato insomma che la tua presenza nel gioco della Virtus è sempre più importante ed è sempre più centrale. Allora abbiamo realizzato una slide che analizza tre momenti della tua stagione e l'abbiamo suddivisa in questa maniera. Le prime 11 partite con ancora coach Regazzi, poi le successive 14 con coach Zappi e poi infine il tuo rendimento nel solo 2024. Direi che la tua evoluzione è davvero molto evidente. Allora Dario voglio chiederti, tu ultimamente prima di arrivare a Imola hai vestito davvero tante maglie diverse, se però arrivavi qui a Imola con quali ambizioni e quali aspettative per la tua carriera? Sicuramente la voglia di far bene, di migliorare soltanto alcuni aspetti, di poter lasciare anche un qualcosa a chi ci segue e spero di riuscire a concludere questi obiettivi che mi ero posto. Guardando un po' la nostra slide vediamo come un Dario Masciarelli diverso sia quello dopo le prime 11 partite, quindi dalla dodicesima in poi c'è stato un cambiamento, qualcosa. Allora voglio chiederti com'è stato il tuo impatto iniziale in Virtus e che cosa non ti ha permesso di esprimere il tuo potenziale al massimo come stiamo vedendo ora? Magari prima avevamo delle rotazioni diverse, delle gerarchie diverse, non ero magari tantissimo in fiducia, magari questo avevo anche qualche minutino in meno. Eh, si è visto perché adesso ne giacchi oltre 31. Eh sì. E quindi diciamo che nell'ultima parte di campionato, metà campionato in poi, fino adesso diciamo, ho preso un po' di fiducia. Questo mi assicuro è una grossa mano. Sì, un po' di fiducia però anche attraverso, dicevi tu adesso, è cambiato qualcosa anche nel tuo modo di stare in campo. E allora quali sono questi aspetti che sono cambiati e che ti stanno invece ora permettendo di esprimerti meglio? Beh, guarda, ultimamente prendo comunque molta forza, diciamo, dalla difesa. Sono riuscito a migliorare questa cosa qui. Mi dà molta energia. Penso di riuscire a dare una mano anche a tutta la squadra. E... diciamo ho fatto un po' uno switch mentale, no? e spero che pian piano i risultati si vedano. Ma infatti ce lo diceva anche lo stesso coach Zappi qui in puntata, che sei stato tu stesso a richiedere di voler insistere sulla difesa. Cioè non solo cresciuto in attacco, ma anche in difesa per la tua volontà. e allora voglio chiederti quanto era importante per la tua carriera poter migliorare e maturare anche su questo fronte. Anche perché spesso sembra quasi che tu voglia prendere il giocatore più pericoloso dell'avversario e andare in marcatura su di voi. Sicuramente è una cosa che mi ha dato un margine di miglioramento su questa cosa. E' una cosa che mi aiuta a restare sempre focalizzato, mentalizzato sulla partita. perché comunque nel momento in cui devi marcare il miglior avversario che ha l'altra squadra, il miglior giocatore, devi avere delle attenzioni in più, quindi devi essere sempre concentrato, sempre lì sul pezzo. E questo mi aiuta a rimanere concentrato sulla partita focalizzata, sulla partita più o meno per 40 minuti. Un'altra cosa che disse coach Zappi qui in puntata, che rimase piuttosto impressa nella nostra mente, disse che quando arrivasti a Imola arrivasti con tante etichette addosso. Queste etichette di cui avevi bisogno di liberarti, di scrollarti di dosso. Io direi che durante questo campionato tu in questo stia riuscendo molto bene. Tu senti di essere riuscito a cambiare la tua immagine e quanto era importante per te riuscire a farlo? Molto importante. Non so se ci sto riuscendo, lo spero. Dai messaggi direi di sì. Lo spero. Sì, diciamo che ho avuto addosso a diversi tipi di etichette. Io spero, pian piano, facendo il mio, di togliermi di dosso queste etichette e di poter dare qualcosa alla città di Imola. Poi lo abbiamo citato più volte, coach Zappi. Allora, descrivimelo un po'. Che tipo di allenatore è e soprattutto che tipo di rapporto e di legame avete costruito? Guarda, secondo me, Mauro ha un pregio in particolare, secondo me. Il sapere ascoltare. Lui è una persona che comunque ti ascolta. Cerca di venirti incontro, se Mari capisce che ci sono delle difficoltà e si confronta, ovviamente sempre tenendo quella che è la sua idea. Però questo modo qui anche di porsi con noi giocatori, oltre al lato tecnico, che lo reputo molto valido, molto molto valido, però oltre al lato tecnico è riuscito a installare questo rapporto con noi giocatori che secondo me ha fatto scattare quella scintilla in più. Guarda, mi hai proprio rubato le parole di bocca perché è esattamente la sensazione che ho avuto anch'io, questa sensazione di attenzione nei confronti, delle relazioni coach-giocatore. Quindi penso che questo sia fondamentale non solo per dare il meglio ad ognuno di voi, ma anche per ricucire questa squadra e poi, come hai detto tu, farla accendere. Questo penso sia fondamentale. Ti voglio chiedere se adesso, un po', dopo aver visto le statistiche che abbiamo pubblicato nella nostra slide, un po' seguendo anche le tue sensazioni personali, se ti senti in questa Virtus di essere cresciuto, maturato e se ti senti un giocatore più completo. Sicuramente ti dico di sì. Sia dal lato mentale che tecnico. Lato mentale secondo me è migliorato molto. Lato tecnico mi spreco molto più in difesa. Cosa e Mari prima facevo un po' meno. migliorato da tre punti. Ho preso molta, ho acquisito molta più fiducia rispetto ad altri anni.